Il centro dipinto del sole dell'Equilio Amosetta, una partita che è cominciata bene, poi il centro è tornato in gara, è tornato a 1, comunque il testo ha dimostrato di esserci, è diventato a competere anche di un partito. Ma no, io sono un po' arrabbiato così, ma non ho nessuno, è quella rabbia che secondo me eravamo in grado di eliminarlo il centro, per come giocavamo bisogna fargli complimenti prima di tutto perché non voglio che si pensa a dargli piacere il cielo. Il problema è non avere un cambio reale e non aver fatto un allenamento vero per tutta la settimana, alla fine il ritmo, si vede che ci mancava ritmo, perché quando la pallavolo si eleva come ritmo, lì o ce l'hai e quindi sopporti tutto, rimani lucido, ragioni, oppure subisci, giochi a momenti come abbiamo fatto noi man mano che andavamo avanti. Il campionato dell'Equilio Amosetta comunque adesso continua, bisogna il playoff per la Challenge Cup, e questa squadra ancora potrà dire la sua in questo campionato? Ma no, adesso non è il momento di pensare alle altre cose, è un momento di recuperare energie, concentrazione, capire quello che abbiamo fatto, però secondo me noi ci è andata, diciamo che il fatto non ci ha affatto aiutato in nulla, perché fare una particolare di questo livello qui e non avere la possibilità di giocarsi realmente mi fa una rabbia incredibile.